ciao a tutti e benvenuti a questo video invece su lotus oggi proviamo a fare una deck preview cioè proviamo a costruire due mazzi da pauper con le carte forti alcune magari anche potrebbero essere considerate rotte spoilerate con modern horizon 3 ovviamente è un processo molto complicato e probabilmente non ci azzeccheremo ma io penso che oramai magic sia più da mente alveare è difficile inventarsi qualcosa di sana pianta e più si propone l'idea il mazzo finisce online perché comunque in realtà più persone ci hanno pensato soprattutto appunto ora nell'era di internet e man mano dalla mente collettiva dei giocatori magic si arriva una lista buona perché man mano le persone continuano a provarlo continuano potenziarlo si scopre che sia effettivamente forte con astigia ma appunto va ripulita rifinita e poi appunto così nasce un tier poi perché tassi un giocatore che ci contribuiscono di più classici professionisti che testano tanto o i grinder di mtg o però insomma tutti ci abbiamo un po contribuito prima di cominciare mi invito a lasciare mi piace commentare scrivere canale soprattutto abbonarvi e inoltre appunto vi ricordo nostro sponsor fantasiastore punto it uno dei negozi più fronte d'italia soprattutto uno dei più veloci a spedire con noi qua sotto avete il codice sconto il lotus 5 che vi dà il 5 per cento di sconto sui prodotti non già scontati quindi approfittatene e fatevi un regalo magari di modo una e zon 3 e magari pure di questi tech perché insomma pauper pauper ghetto dietro l'angolo magari arrivato col vostro dex paisi nuovo con l'idea appunto innovativa e lo vincete odio ragazzi ve lo spero anzi se qualcuno magari ha trovato utile questo video è riuscito poi a cara analista davvero ben fatta rifinita e ci vince il ghetto comunque fa un buon risultato facciano fatecelo sapere noi siamo più che contenti anche perché ripeto e adesso comincia davvero il video è più per buttare l'idea e poi se a qualcuno davvero è servito ci ha costruito il deck cioè noi tanto quanto siamo davvero molto molto contenti aver aiutato nel nostro piccolo il primo deck che vi presento e affo da bannare midrange si vabbè ovvio che è provocatorio allora nessuna sorpresa ragazzi cranial rem potentissima è sicuramente una carta che sarà una big player del pauper e probabilmente anche molto poco allora è praticamente certo 9,99 su 10 che non verrà pre bannata anche se un minimo di dubbio su questa carta può rimanere per semplice fatto e gavin su twitter ha chiesto cosa ne pensasse la gente di questa carta anche qualche professionista mi pare che ci fosse mengu ma potrei sbagliarmi comunque su twitter trovate tutto perché c'è ancora il post avessero chiesto effettivamente ma magari questa carta non c'è non non fatela giocare al ghetto rovinato un po tutto secondo me ripetono lo storico ci dice che non lo faranno io anche nel video che è uscito detto io spero che lo facciano e me lo auguro però non è nello storico delle cose tutte le carte rotte uscite nei vari master o comunque tendenzialmente ma scusate dei master degli horizon o comunque nei nei set generali anche si sapeva che magari avrebbero rovinato qualche torneo pauper importanti quel periodo non non si è intervenuto insomma prima e tendenzialmente non lo fanno perché l'ha già detto il loro ruolo non sarebbe quello di pre bannare così via qua vabbè ragazzi più che altro perché c'è la richiesta ma giusto per chiudere un po la cosa diciamo la polemica non lo è perché qua effettivamente c'è è proprio tanto 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 uguale a non una ma due carte nella banlist c'è appunto placca cefalica e glitter quindi voglio di vabbè comunque parliamo del mazzo che in sé che è più interessante la lista che vi propongo appunto è un affo midrange grixis quindi quello che si gioca classico anche adesso con tutti i suoi vantaggi svantaggi un po lentino perché appunto ai ponti quindi vai tanto indietro ma sei molto resiliente è sei un tribal pesco 2 cioè tante carte che fanno pesco 2 pesco 2 pesco 2 allora è tre colori che comunque non è male perché vuol dire che hai ok sei lento ma è a disposizione il tuo arsenale tante carte forti per poi attingere tre colori allora questo deck normalmente come finisce era utilizza ok mi renforcer ma molte liste tendono usare il gear serpent cioè un serpente 56 con affinità con gli artefatti detto in breve che tu vuoi pagare massimo cioè due blu potenza tendenzialmente lo paghi quello può capitale che sfighi lo paghi un po di più comunque due blu penso 56 quindi è bello grosso perché è la creatura chip di pau per più veloce da fare è più grossa e poi late game ha un effetto forte cioè tappi appunto del mana sei mana e lo rendi imbloccabile quindi da anche un clock bello forte perché l'altro può fare un bel muro di tra ben tu dici a me che cacchio me ne frega inizio a girarti per la tabellina del 5 secondo me qualche giro e ho vinto io sostituiamo questa carta con un drop a 2 perché bene o male l'idea è quello farlo punto troppo a 2 troppo a 2 con la cranial ram che l'idea è simile però ha diciamo dei vantaggini il vantaggio è che appunto la cranial ram sia creatura e sia in mebbler di qualsiasi cosa ci finisce sopra è letale il germe qua in questo mazzo entra facilmente ma già fatto early game come una roba che è un 5 1 6 1 cioè è grosso e voi dite va beh ma però un 5 1 lo paro con tutto muore sì però questo è il formato di micro vantaggi io il germe lo metto a gratis è generato non mi interessa poi che cosa gli succede se tu non lo gestisci ci perdi tuo avversario dico perché appunto questo germe ti fa la tabellina del 5 del 6 del 7 quello che vince se ci fai la removal hai fatto tendenzialmente un 1 per 0 perché la placca ancora lì che incombe è la prima creatura che ci finisce sopra di nuovo siamo punto a capo un disastro se invece tu c'ha un blocchi o comunque tradi il germe che alla fine lo pari con una tra ben e muore per intenderci vabbè tu comunque hai perso un pezzettino ok che la tra ben si cicla che è la creatura che mi viene in mente più facile per schiantarsi su questo germe però di nuovo micro vantaggio io non è che ci ho perso qualcosa la placca di mogli non è che puoi continuare a farlo all'infinita sta cosa che dopo le tra belle finisci e quindi queste le di base poi se invece per sbaglio finisce su qualche altra creatura diventa incredibile ovviamente se finisce su denforzer vabbè super grosso eccetera la pro grossa che te giro ma la creatura più pericolosa per accompagnare questa placca è il tank il tank è un ottimo finisce in questo deck per cosa fa entra e anima un artefatto non creatura gli da praticamente più 3 più 3 i segnalini che è volare noi abbiamo qualcosa che però se ci finiscono per sbaglio segnalini e diventa un tre volare è una cosa incredibilmente rotta che sono le terre artefatto stesse perché i ponti sono indistruttibili il tank non va sovrascrivere quello che c'è sulla carta nel senso la l'abilità indistruttibile dei ponti rimane e quindi vento di te per volare indistruttibili e se ci metto sopra questa diventano degli x4 volare indistruttibile e falle a gestire le tra bene le cose a terra non possono più bloccare all'infinito ci saranno dei volanti che potremmo bloccare un po non tradano manco perché nella nostra carta indistruttibile che famo capite che insomma è molto molto forte come cosa l'idea di base quindi fare così continuare a proporre così finisce ad attaccare eccetera fare un po di controllo e proteggere l'anno la nostra ram o comunque dal passaggio all'altro con metallic rebuke che è il counter di questo deck molto molto forte e tra l'altro è bello sinergico con la cranial stessa perché a improvviso che possiamo tappare l'equipaggiamento e quindi scalarci di uno il costo del rebuke e perché ovviamente sì ragazzi è una cosa ovvia ma la dico spesso quando giochiamo giochiamo e attacchiamo con una creatura che ha un equipaggiamento tappiamo tutto ma in realtà gli equipaggiamenti lauree non è che si tappano rimangono stappati solo la creatura che si tappa lo so che ovvio però molte persone soprattutto pauper vedo che si avvicinano giocatori molto 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 nuovi perché riprendono dopo anni 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 è una cosa che ho visto tantissimo i torni di pauper e quindi magari non lo dico perché sì è ovvio per noi che facciamo i torni almeno una settimana per altri possono vedono a tutti i giocatori anche quelli forti che tappano tutto e dicono vabbè allora l'espagione tappato no è comunque stappato e quindi è ottimo per le buke di spice in questa lista cosa ho messo c'è di spice champagne chiamatelo come volete c'è di carte strane che possono essere forti in sinergia con la ram ram e darvi anche di idee per appunto la vostra deck building perché l'idea appunto come ho detto prima è quello di darvi spunti fling off link si giocava tanto quando c'era lato saccavi tanti artefatti li prende più di più due per ogni artefatto saccato poi lo flingavi vengo da fatta p2 sacrifichi una creatura come costituzionale la forza la spara in danno dovete fare quindi tendenzialmente in testa all'avversario perché gli farete delle robe come tantissimi danni l'obiettivo dell'atoga era quello farmi pia 18 e per favore perdi la partita qua possiamo proporre circa la stessa cosa con la cranial in late game ma di nuovo voi siamo appartiene oltrate eccetera potete fare carina risolve entra questo germe che è un 13 1 lo flingo piast 13 tra l'altro allora sì ok il lato che era forte perché più due più due quindi meno artefatti potevi fare più danni più velocemente varie cose poi lato che era anche un pezzo difficile a gestire perché attacco e blocca lo sto coso che si potenzia saccando un artefattino a caso però comunque qua non è male perché ok io sacco il germe sul fling per cercare di sparati i danni tu me lo counter abbiamo perso un germe è ovviamente il fling però la placca di nuovo ancora lì lo faccio su un'altra creatura di nuovo non ho dovuto sacrificarmi mezzo board quindi anche se mi fai counter su fling ok sì mi spiace ci ho perso delle cose ma ho ancora le risorse a terra questa la mia cara cranial ancora rì a darti fastidio e la prossima carta creatura che pesca una minaccia che te manda sulla luna l'idea è quella poi il resto classiche carte per grindare quindi blood fountain così via continuare a riproporre le minacce come fa il grigio finiti adesso di spunto champagne a parte fling ho messo anche il retriever di nuovo perché mettere può recuperare un altro fatto che vuoi quale il problema da blood fountain è che non può recuperare le non creature e la cranial ok che fa la creatura ma non è per sé a living weapon è una cosa diversa ovviamente e quindi con la possa recuperare è con cose specifiche che recuperano le carte al cimitero quindi ho pensato al retriever perché possiamo fare magari catene strane soprattutto late game se l'altro c'è contenuto eccetera a fare un retriever che magari prende le faute quindi continuare a riproporle le faute in posso riprendere il retriever e quindi continua così ma soprattutto poi appunto rete di veca certo punto recupera magari della cranial ram ragazzi lo so che è una cosa molto champagne così però sono idee che vi butto lì le cose spice che vi indico della side che in realtà è una cioè io questa lì ci sono già caricata perché mi piace montarmi le liste da solo su moxfield e provarle e quindi a parte le altre non guardatele sono praticamente quelle che giocavo a caso come senza garage perché se ci sarà un meta con quasi quasi certo perché è molto forte un meta con cranial ram una delle risposte più fighe e ansia garage perché può spaccare due cranial ram e a instant e fa quindi in generale un buon due per uno tanto il mana verde farlo molto facile grazie a tutti ma io qua appunto ve le sto solo raccontando poi secondo mazzo qui presento e ovviamente anche chi ha seguito tanto gli spoiler saprà già di cosa sto per parlare dell'ovviamente baskin brun scale allora questa è una creatura molto molto particolare ed è anche più difficile beccarci con questa creatura cos'è vediamo la combo vediamo cos'è sì perché c'è una combo e beh questa carta effettivamente molto facile non so perché l'abbiano fatto e non so neanche perché l'abbiano fatta comune comunque a tappi 21 22 già cominciamo bene perché costo efficiente devoid vabbè è il drazzi leader ok sono e colorless ci interessa il giusto tappi due adattare uno se non ha dei segnalini più uno più uno cp che segno più uno più uno anche qua dici vabbè sti gran cazzi ma la parte ci interessa la trigger quella dopo ogni qualvolta noi mettiamo su questa creatura uno più segnalini creiamo un el drazzi spawn quindi un token 0 1 che la sacrifica aggiunge umana colorless quindi avete già capito dove voglio andare a parare dove afficcarci infiniti segnalini più uno più uno e fare infiniti spawn come possiamo abusarne in pauper con sadistic lee la lista gli è un'incanta creatura che dice la creatura incantata ottiene un serino più uno più uno ogni qualvolta una creatura muore cosa facciamo noi incantiamo il nostro brut scale con questa ci mettiamo su un segnalino in qualche modo le vi ricordo che può farlo da sola con adattare ma abbiamo anche altri modi possiamo giocare carte come slider head che a 0 a scavenge quindi la esili dal cimitero e metti la sua forza come segnalini più uno su una creatura bersaglio quindi brut scale possiamo farlo con snake skin veil che anche un proteggino metti insieme no più uno su una creatura e gli dai ex proof possiamo farlo con il rubber belt maverick che appunto a tappo un verde esiglia questo maverick dal cimitero e metti insieme uno più uno su una creatura bersaglio fallo sulla sorse però di nuovo ci interessa che caso segnalino dopo che abbiamo messo il sadistic lee dopodiché c'è appunto trigger e va e viene creato le dar si spona sacchiamo su se stesso le dar si spona perché lui ha questo effetto quindi creiamo umana colorless i token muoiono perché i token toccano il cimitero e poi cessano di esistere quindi tutti gli effetti che dicono appunto quando la creatura muore bla 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 triggerano con i token anche questo lo dico perché di nuovo per i giocatori che giocano da tanta è ovvio per altre persone magari no cioè i token ben insegnato che non cessano di esistere quando vanno in altre zone quindi magari uno può pensare a ok se deve mandare nel cimitero proprio cessa ad esistere non lo tocca no il cimitero tocca quindi trigger di morte funzionano quindi appunto il token è morto e essendo morto che succede trigger sa di stigli e quindi rimetto se ne lo più uno e quindi se ne lo più uno quindi rifaccio nel dratti spawn che che posso risaccare a quindi è morto e quindi di segnalino e quindi da rispone avete capito che facciamo il loop quindi possiamo creare una brut scale infinita infinita quindi 10 milioni 10 milioni che già così può essere una chiusura perché d'attacco faccio effetti che magari sacrifica altrettanti danni pari alla forza in giro quindi effetti come il fling di prima o right of consumption che qua non c'è ma ve la cito che è una sorse che fa circa la stessa cosa di fling ovviamente è un po diversa però è proprio di capire e questo è anche un modo è un modo per chiudere se no possiamo appunto sfruttare anche il fatto che mi ammana colorless infinito perché mi ha insaccato infiniti scusate avevo solo un goccio d'acqua infiniti e diversi spawn c'è in paolo per modi per sfruttare male infinito colorless c'è la top picker which questa dice tappa 1 sacrifica una creatura e guarda le prime due carte di un gremorio di un avversario e esili una se tu lo puoi fare infinite volte ovviamente li guardi tutto il mazzo io lo esili e quindi vinto passi l'altro non può pescare gg ma no aspetta però qua mi son perso che in che senso perché tocca non lo sa chi su uno sa chi sull'altro guard vi spiego anche un minimo la combo perché è un pelo complicata voi avete brood la lucertola con gli e poi avete per terra la appunto la strega che succede voi ovviamente triggerate la cosa dicevo prima ficcate il primo segnalino in maniera da creare il primo è il si spawn vuoi sacrificato il primo terzi spawn per creare mana ma avendolo saccato ne creato un altro che entra in gioco e avete da parte un mana colorless con questo mana colorless che avete da parte saccate il secondo è il drazzi spawn per fare l'effetto della strega ma avendolo saccato gliri trigger ha quindi creato un tetro da si sporo che questa volta lo anzi avete zero mano in pool lo sacrificate per fare di nuovo il mano in pool che però è un altro da si sporo che avete di nuovo mano in pool e quindi sacrificato questo qua lo sacrificate per faremo l'effetto della strega e quindi appunto avete fatto l'effetto della strega all'infinito e quindi avete vinto e questo modo per chiude che non gioco un po delle tre carte e questa è una chiusura ed è interessante questo mazzo quindi come l'ho pensato che non in realtà ha pensato se poi su internet si trova già anche un po di liste non è che o mio dio sul genio ripeto una casa che potrebbe provare ad accomodare questo tipo di combo e torture existence perché allora un po di liste turbo combo con la lucertola l'ho viste però magari perché non si è ancora trovata quella giusta non si è trovata la quadra mi sembrano come mogwards quindi il mazzo combo di pauper per chi se lo fosse perso sul canale comunque abbiamo parlato di quel deck però depotenziato che comunque tu devi fare una creatura e incantarla quindi di esponi ai due per uno visto che la shell e bg per di giocare una carta che è verde anche se ti chiede del verde è nero ma prima cosa in mente per dar resilienza e torture existence questo un ottimo incantesimo perché cosa fa da più non lo giochi quindi molto chip da più nero scarti una carta creatura per recuperare una creatura allora questo è molto forte con varie carte in questo deck appunto slida red perché ci interessa che lui muoia lo slida red perché scavenge è una carta è un effetto facciamo il cimitero quindi possiamo scartare lo slider per recuperare un pezzo della combina o un pezzo forte che è stato ucciso ma poi più che altro perché bg e quindi in generale un masso torture existence ci dà una carta collante buona se vogliamo sia giocare creature se giocare incantesime che come un with the gods allora praticamente è una source di tappi due guardi le prime cinque carte del grimorio poi sceglierò un incantesimo o una creatura e aggiungerà la mano e questo è perfetto perché noi in base a quello che ci serve in quel momento per chiudere il cerchio della combo lo prendiamo ci serve la bruce kale allora facciamo questo cerchiamo e se ci compare la prendiamo ci manca sadistic li allora appunto con questa possiamo prenderla è un match up che bisogna fare tanto attrito perché l'altro moltissime removal bene allora prendiamo la torta reggisense continuiamo a grindare l'avversario e quindi il primo dopo o per la combo o per value magari vinciamo e quindi per questo mi sembra una buona carta il resto sono abbastanza carte da contorno cioè vabbè il troll che ti fa da mana ti fa anche da finish al volendo il golgari brown scale che è ottimo con davvero ottimissimo con torta reggisense perché lui ha un effetto che dice se praticamente lo scarti ti da due vite e poi dredge due quindi macini due lo recuperi quindi praticamente ti fa macinare carte macinando carte vedi più creature vedi più robe quindi con torta reggisense poi ai più tu hai più scelta di creature da recuperare considerando che recuperando il brown scale in mano grazie al stesso effetto poi possiamo cambiarlo con una delle creature che ci interessano macinate e poi c'è anche l'eternal witness nuova per il pauper che questa è molto bella è simile di concetto al al bruce che lei tappi tre fai un di uno adattare due in questo caso che costa comunque due mana quindi ci ficchi due segnalini ogni volta uno più segnalini vengono messi lei ti fa recuperare un permanente dal tuo cimitero questo è bello anche lei fa da collante per quanto riguarda il fatto della recursion questa è un'altra carta interessante per il pauper mi piace molto ci permette recuperare per me deve essere occupare gli incantesimi o tutti i vari tipo torta del senso gli o può recuperare le creature quindi il pezzo della combo altre creature belle un'altra carta interessante è il go round che combinato con questa combo infinita ci fa anche fare surveil infinito perché dice che ogni volta una creatura con forza 2 o meno entra nel campo di battaglia possiamo far solo appunto sorvegliare uno quindi se noi facciamo infiniti sapro l'insapro l'insipo una possiamo fare infinito surveil volendo possiamo affinarci il mazzo e quindi ho messo anche giusto per fare il pappone super chiusura ho messo un red return e è un lotto la giant perché cosa può succedere noi possiamo fare appunto mi immagino il deck quindi nel cimitero avrò tendenzialmente i tre slithered quindi poi li posso fare tutti e tre sui sul brut scale fare tre sapro l'ingi saccare sapro l'ingi si guarda di cosa poi tra il dra si spona saccare il dra si spon per fare il dra di retorno che ci siamo macinati e rianimare il lotte la giant che spara un danno al nostro avversario per il cimitero quindi avendone tante gli spariamo una roba come 20 danni e gg acqua è una lista molto molto champagne ho cercato più che altro anche un po per rendere il video interessante di metterci più cosa assieme cioè di mettere la componente torture e senza la componente un po dreggio la componente un po combo shot strana di appunto delle retorne questa la carità ma è principalmente appunto per darvi idee e niente queste ma sono le liste allora conclusione finale ma aspetto che queste liste siano siano giocate allora in realtà un po sì magari non in questa forma e con dei cambiamenti anche belli spinti per carità belli profondi però sì mi aspetto sia la finiti però vabbè la finiti ovvio perché se non la banno quella carta proprio spanata ma mi aspetto anche un arrivo della bruce che questa è una combo forte la bruce che è una carta forte è una carta che può fare anche vaglio comunque già di per sé fare turno 2 questo è turno 3 avere un 3 3 che mette lo spawn non è bruttissimi grazie a tutti 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 grazie a tutti